amici del tg platinum ben trovati da attilio scuderi oggi solito appuntamento col nostro faccia a faccia e siamo con giovanni petralia giovanni ben trovato attilio grazie mille sai molto bene il caldo qui dentro si sta bene quando si sta bene a media platinum siamo assolutamente allora parliamo della grande evoluzione della grande azienda remax platinum ma parliamo di un settore che è quello del team manager tu sei uno dei team manager dell'azienda la facilità o difficoltà nel cercare di avvicinare o di accompagnare verso questo tortuoso anche mestiere lo dobbiamo dire che ha bisogno di tanta tanta formazione si attilio grazie mille per la domanda il team manager spesso mi sento chiedere ma cosa fa il team manager è una bella domanda il mio lavoro si è si è evoluto negli anni se platinum è un'azienda molto dinamica che va al passo con i tempi originariamente venivo chiamati impropriamente team manager in realtà ero più più un tutor team manager accompagnavo accoglievo più che accompagnavo accoglievo tutte le persone che per la prima volta si interfacciavano con l'azienda facevamo parecchie formazioni insieme facevamo affiancamento sul campo fin quando queste persone erano pronte a camminare da sole adesso negli anni ci siamo strutturati ancora meglio il dipartimento recruiting ha messo in piedi delle figure che sono vengono chiamati tutor che fanno esattamente quello che facevo io all'inizio della mia carriera i tutor sono quelle figure che danno l'imprinting alle alle persone nuove che si affacciano a questa azienda queste persone fanno un percorso formativo di circa sei mesi affiancati dai tutor quando queste persone sono pronte conoscono le mansioni e hanno dimestichezza delle mansioni stesse vengono si sganciano dal tutor e vengono assegnati ad un team con un team manager di riferimento perfetto senti ma oggi al ragazzo che ha tanta passione perché dire vieni avvicinati a ramax platinum e comincia questa favolosa avventura attirio ha detto la parolina magica che la passione ok per fare questo lavoro ma credo per fare qualsiasi tipo di lavoro per fare il tuo per fare quello di tutte le persone che che hanno voglia è fondamentale la passione la passione è quella cosa che non ti fa pesare il lavoro è quel motivo per il quale ti alzi la mattina vai a casa tardi la sera e non senti la stanchezza assolutamente perché platinum sono di parte io prima di platinum ho comunque fatto questo lavoro sia da solo che con altri franchising immobiliari quello che ho trovato in platinum è stata una forte attenzione alla mia persona non alla mia produzione alla mia persona di contro ho trovato pure tutti gli strumenti che mi hanno permesso di acquisire un metodo ok perfetto allora a tutti quelli che vogliono avvicinarsi diciamolo visitate il sito intanto di ramax platinum che è platinum punto it slash scusatemi ramax punto it slash platinum andate nei contatti contattate ramax platinum ed entrate in questo mondo dove troverete anche giovanni petralia che può mettervi sulla strada non so che è quella dell'agente immobiliare grazie giovanni petralia grazie anche a voi per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima edizione grazie a tutti